Sabato 3 settembre prossimo sarà la terza edizione di Respirarte ad animare il borgo e il centro storico di Amelia. Una serata ricca di spettacolo, intrattenimento, spazi riservati alle famiglie e ai bambini con buon cibo ma anche il pensiero rivolto alla solidarietà per i recenti disastrosi eventi di Amatrice e zone terremotate. Sarà l'evento che va a chiudere la stagione estiva, è l'evento di qualità, coinvolge tutto il paese, coinvolge artisti, musicisti e tutte le varie sfaccettature di quello che poi è l'arte, sia arte di strada ma anche arte intesa come teatrale. Devo dire che è un'iniziativa che abbiamo cercato di ripresentare anche quest'anno, abbiamo trovato degli sponsor che hanno finanziato questo tipo di iniziativa proprio per mantenere l'appuntamento d'elite per il borgo di Amelia. Quest'anno, a seguito a degli eventi del terremoto del centro Italia, anche Respirarte si adeguerà andando ad attivarsi per raccogliere fondi per la campagna che abbiamo lanciato come amministrazione comunale che sta continuando e sta trovando grandi adesioni anche sulle attività commerciali. Un programma ricco di eventi dove non mancherà lo spazio per cultura e storia della tradizione di Amelia. La festa praticamente a partire dalle 19 dove si apriranno i concerti in Piazza della Libertà per poi proseguire durante tutto l'arco della serata con mostre su al castello, quindi il castello è visitabile fino su alla torre, ci saranno spettacoli di danza e di teatro, avremo tutta la parte dedicata all'artigianato, alla cantina aperta, ai laboratori creativi per bambini, avremo una collaborazione con Vara Magra per una camminata storica che partirà dalla necropoli fino ad arrivare su al castello dove ci sarà appunto la narrazione di tutto quello che è la storia di Amelia. Un'organizzazione predisposta per favorire la partecipazione senza troppe preoccupazioni per parcheggio e mobilità dei visitatori. Quello che segnaliamo è appunto per arrivare su ad Amelia il servizio di navette gratuito che partirà dal bivio di Amelia ogni circa 2-20 minuti dalle 18.30 fino all'1 circa, che è un servizio messo a disposizione dalla WISP e dalla protezione civile. Una manifestazione che chiude in bellezza la soddisfacente stagione estiva a Megliesi. È stata una stagione estiva ottima perché il tempo ci ha graziato con tre mesi di sole pieno e devo dire che è andata bene su tutti i livelli, è andata bene sia per le iniziative che sono state fatte dall'amministrazione sia per le iniziative dei privati, le feste e soprattutto abbiamo avuto un grande ritorno dei turisti italiani, tedeschi e olandesi e questo ci ha fatto molto piacere perché il paese era pieno, erano piene le case di vacanza, erano piene le attività commerciali, erano pieni i ristoranti.